Quello alle mie spalle lo conoscete, è la passeggiata a Levante che abbiamo iniziato, la stiamo completando, non dico che la stiamo finendo perché la finiremo quando arriveremo a Bisceglie e questo sicuramente lo faremo, mi auguro, al più presto. Nel frattempo chiaramente arriviamo sino alle mattinelle, come da progetto già di fatto praticamente in corso di realizzazione, lo vedete, infatti stiamo proseguendo, proseguiremo con la stessa identica pavimentazione, con la stessa orditura, con la stessa staccionata in legno che avete praticamente visto già, che abbiamo realizzato nel primo tratto. Noterete che abbiamo fatto una grande opera di pulizia, abbiamo tolto tanto cemento ma anche tanto rifiuto che c'era su questa prima parte della palesia, portando banalmente soltanto terreno da riporto, pianteremo macchia mediterranea, bassa, assolutamente non invasiva ma al contrario, molto bella. A lato stessa cosa, non abbiamo voluto pavimentare tutto ma lasciare come nel primo tratto queste aree di verde, abbiamo messo anche qui terreno vegetale che ci consentirà di piantare anche qui del verde molto naturale, per il resto proseguirà la pavimentazione e come avete visto i lavori sono già a buon punto. In tutto questo abbiamo previsto anche tutti i faretti per l'illuminazione, stiamo cercando di guadagnare sempre più terreno, allungare sempre di più il nostro lungomare, rendere la nostra passeggiata di Levante sempre più piacevole.